Come fare analisi dei grafici grazie alla piattaforma PrimeXBT Un caro saluto da Alberto, il sottoscritto Alberto Malini di Crypto Learners e rieccoci qua in un altro video pratico, video tutorial legato all'uso della piattaforma PrimeXBT per il margin trading o il covesting o il covesting yield, qualora tu scelga quello che preferisci Andiamo a vedere direttamente questa cosa estremamente importante Abbiamo uno strumento molto utile all'interno della piattaforma, ci basta andare qua in analisi cioè la possibilità di direttamente all'interno della nostra piattaforma PrimeXBT di poter utilizzare i grafici, lo facciamo proprio in maniera super semplice qua sotto asset Abbiamo tutti gli asset tradabili sulla piattaforma, quindi nel nostro caso prendiamo ad esempio Bitcoin contro US Dollar Scegliamo il time frame, allora integra un modulo di TradingView TradingView è la tipica più famosa piattaforma per i grafici che utilizziamo noi utilizzano tutti i trader al mondo, soprattutto in criptovalute quindi trovi direttamente integrato questo modulo all'interno quindi non hai bisogno di aprire account in TradingView o di passare da un account all'altro Scegli tu il time frame a seconda dell'analisi che vuoi fare puoi inserire appunto tracciature, puoi mettere indicatori tra i vari indicatori da cui puoi scegliere, ad esempio Bollinger Band ce ne sono veramente davvero tanti, li si può ovviamente settare Stat è proprio l'imbarazzo della scelta sono tutte le varie funzioni, tipo per calcolare un percentuale di calo o di incremento da un punto all'altro ripeto, sono tutte le normali, tradizionali funzioni che ha TradingView qui in maniera un pochettino più semplificata non ci sono proprio tutte quelle di TradingView però per graficare, per farsi le proprie idee, analisi è estremamente comodo, funzionale questo è quello su cui volevo portare la tua attenzione per questo video perché molti non la utilizzano, neppure sanno che c'è questa funzione ti ringrazio dell'attenzione ti auguro un gran successo con il Trading che ricordo è sempre qualcosa che va fatto qualora tu sia già esperto o esperta in questa arte, scienza, studio chiamalo come vuoi perché comporta ovviamente rischi di perdere il capitale e ovviamente rischi legati a proprio capitale quindi diventa un'attività estremamente proficua ma nel momento in cui si sa operare e richiede tanto studio prima PrimingsBT ci dà una grande possibilità che è quella sia di fare Trading per conto nostro che anche di abbinarci al copy trading quindi al covesting e anche se siamo alle prime armi ovviamente valutando tutti i relativi rischi di poter lavorare anche seguendo la strategia fatta da qualcun altro e andando a scegliere ovviamente le migliori strategie e i migliori trading quindi questa è una cosa davvero eccezionale grazie ancora un abbraccio da Alberto di CryptoLearners e ci vediamo in un altro video ciao